La gatto e il topo detective, come le agenzie di investigatori privati, deve rimuovere regolarmente le cimici dai propri uffici. Sciate fino a diventare blu senza fiato! Quello immaginario per così tanto tempo mi sta diventando reale! Voi due potete aiutarmi! Vi farò un pagamento bestiale! Mmm, così comprerebbero molti spray per insetti! Lei è Johnny, la mia tata! Tata? Mi sembra equilibrata! Tioio, diventa blu!